Andiamo amici, venite con me. Tutti in fila per tre? Meglio sempre dietro di me. Occhi chiusi, stando in tutti, giriamo. Felici per la nostra città. Questa è proprio una novità. Certo, ti voglio molto coraggio per affrontare ogni passaggio. Claxon, suoni, rumori esagerati. C'è da sperare di non venire stirati. Fisso il pensiero di stare attenti. Ma tutti insieme siamo più contenti. Che immaginano gli altri di noi ha poca importanza. Ciò che conta è la vicinanza. Chiudiamo gli occhi e apriamo il cuore. Liberiamo la fantasia per vivere insieme in allegria. Questa filastrocca nasce dall'esperienza di orientamento e mobilità che affrontiamo ogni maniera a piccoli gruppi. Il modo migliore per superare le difficoltà è affrontarle con coraggio. Invitiamo tutti voi a bendarvi e a provare le emozioni che abbiamo provato noi. Siamo certi che capirete che la diversità fa sempre rima con umanità. Grazie.